Un modo per non perdere di vista l'importanza dell'innovazione scientifica e dello sviluppo della ricerca soprattutto in Italia. Questi temi centrali su cui ruota l'iniziativa promossa dall'Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti, intitolata la ricerca del futuro e il futuro della ricerca che si è tenuta all'auditorium RAI di Palermo. Un convegno al quale hanno partecipato personalità di spicco sia del mondo della formazione, come il rettore dell'Università di Palermo Roberto Lagalla, sia in quello delle scienze, come la docente Elena Cattaneo, nominata nel 2013 senatrice a vita proprio per l'impegno assunto nel mondo della ricerca. Il futuro della ricerca sta nello studio, nell'impegno, nella responsabilità di esplorare terreni ignoti, di non darsi mai per vinti, di lottare, di non cedere e di lavorare per il diritto di lavorare, di far ricerca in Italia. Uno Stato che non investe nella ricerca, nei giovani e nell'università, è uno Stato paralizzato, è uno Stato che ha abdicato al suo dovere, al suo impegno di crescere da un punto di vista civile, perché al di là di quel che si scopre, studiare ci permette anche di sviluppare quei circuiti cognitivi che fanno sì che noi ogni giorno evolviamo sempre di più come cittadini. Se non si parte da una filiera che si chiama educazione, istruzione, formazione, specializzazione e selezione, non andiamo da nessuna parte. Il futuro della ricerca in Italia, finché ci saranno persone come la professoressa, oggi senatrice a vita, a rappresentare la ricerca, ad appassionarsi alla ricerca, il futuro sarà un po' più rosio di come sarebbe senza persone di questo calibro. Grazie. Grazie. Grazie.